Musica Lunedì 30 dicembre, buona giornata e buon inizio di settimana a tutti dalla redazione di Udinese TV La nostra prima diretta del mattino incomincia come al solito tra le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, il meteo, il traffico, gli approfondimenti, gli aggiornamenti di cronaca Partiamo proprio con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla fronte viabilità incidenti perché nella tarda serata di ieri si è verificato uno scontro in Carnia lungo la statale 52 bis di Passo di Monte Croce con una vettura coinvolta per causa ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto attorno alle 21 nella zona di Arta in comune di Arta Terme all'altezza del hotel Edelweiss l'auto con a bordo tre ragazzi è andata a sbattere contro un muretto tre persone a bordo, tutti feriti, trasportati in ospedale a Tolmezzo per le cure le loro condizioni sono serie ma non sono in pericolo di vita sul posto per i soccorsi, i vigili del fuoco e del distaccamento di Tolmezzo questo dunque è il primo aggiornamento che ci arriva dal territorio ora andiamo ad ascoltare quali sono invece le previsioni del tempo con la nostra Elisa Febo che ci aggiorna sul meteo di oggi ben ritrovati con le previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di lunedì 30 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso lo zero termico sarà oltre i 2000 metri di quota ma la giornata sarà ancora relativamente fredda in pianura e nelle valli vediamo assieme le temperature sulla costa le minime saranno comprese tra l'1 e i 4 gradi, le massime tra i 5 e gli 8 gradi in pianura le minime saranno comprese tra i meno 4 e i 0 gradi, le massime tra i 5 e gli 8 gradi a 1000 metri 2 gradi, a 2000 metri meno 2 gradi grazie a tutti e a domani con le previsioni meteo andiamo a vedere anche con le webcam che ci arrivano dal territorio come si sta risvegliando la nostra regione partiamo dal borgo del Lussari con come al solito lo scorcio che ci arriva alle prime luci dell'alba da dietro le vette il borgo ancora illuminato e poi scorrendo ancora sempre a Tarvisio piazza Unità d'Italia ancora con le luci e l'albero di Natale e la notte che è ancora presente mentre poi ci trasferiamo sulla costa a Trieste questa la panoramica sulla riviera del capoluogo regionale e dunque con la giornata come ci ha raccontato Elisa Febo che volge al meglio con il bel tempo e il sole anche quest'oggi ma con temperatura ancora rigide in autostrada ora la situazione del traffico in tempo reale dal sito Info Viaggiando di Autovie Venete al momento non sono segnalati particolari problemi lungo la tratta della A4 compresa tra Trieste e Porto Gruaro nessun problema nemmeno sulla A23 ci sono solo alcuni cantieri e restringimenti per lavori in corso tra Udine Nord e Udine Sud tutto tranquillo anche sulla A28 e sulla A34 questa è anche l'immagine che ci arriva in tempo reale all'altezza dello snodo di Palmanova in direzione Venezia poco traffico ancora per quanto riguarda l'A4 ed ora siamo pronti ad andare sulle prime pagine dei quotidiani nazionali con l'apertura del Corriere della Sera andiamo negli Stati Uniti con gli attacchi antisemiti l'ultimo in ordine del tempo ha visto a New York l'assalto col macete in casa del Rabbino tredicesimo episodio dall'8 dicembre cinque i feriti di cui due gravi il governatore Cuomo stato di atto di terrorismo domestico così è stato derubricato il fatto ma c'è anche l'intervento sui troppi episodi di odio razziale ora nuovi leader e più civiltà in questa intervista che propone il Corriere della Sera a centropagina invece si ritorna sulla tragedia di Roma le due ragazze travolte e uccise questa non è una fiction rispettate Gaia e Camilla a parlare Giulia Buongiorno avvocato legale di una delle due famiglie delle ragazze coinvolte ancora incidenti e paura tra l'altro l'episodio che viene raccontato oggi è il tamponamento di una vettura della polizia da un'auto che si era fermata aveva rallentato per dare un'occhiata ai tanti fiori che sono stati posati proprio sul luogo della tragedia e poi ancora l'economia con gli italiani pessimisti timori dal 77% della popolazione sul nuovo anno dalla prima del Corriere andiamo sulla stampa di Torino governo Conte è pronto a rivedere il reddito di cittadinanza e pensioni c'è l'intervista all'ex ministro Fornero quota 100 misura demagogica Salvini avverte se la vedranno con il popolo Palazzo Chigi si prepara a ridiscutere senza stravolgere i provvedimenti simbolo degli ex alleati della Lega e poi a centropagina ancora il volley con Legono regina del volley campione dell'anno per la stampa la pallavolista di Conegliano è stata scelta anche per le tante vittorie conquistate con la formazione del Limoco dalla stampa ci trasferiamo sulla prima di Repubblica con l'intervista al Premier resto in politica così Conte non voglio fondare un partito ma dare un contributo concreto al Paese Zingaretti crescita e giustizia fiscale lavoro e coesione nazionale i temi al centro del tradizionale discorso di fine anno del Presidente Mattarella che si terrà naturalmente domani a Reti Unificate e poi anche Repubblica riporta l'episodio di antisemitismo a New York assalto con macete a casa di un rabbino cinque feriti gravi l'ultimo di una serie di attacchi Repubblica racconta anche l'ultimo decennio dal 2010 al 2019 cosa resterà di questi dieci anni una serie di editoriali da Natalia Aspesi a Corrado Augias passando per Barricco Folli Gadlerner Ezio Mauro Rampini Serra e Bernardo Valli poi ancora lo sport di piede e con l'affare da 955 milioni la Roma è texana Friedrich nuovo presidente ed è stato pianificato il closing che avverrà a gennaio da Repubblica ci trasferiamo su Libero la prima pagina del quotidiano fondato da Vittorio Feltri Salvini sale Conte scende Matteo svela il piano per andare al potere sto studiando da Premier ho stretto nuovi rapporti all'estero in Italia tra un anno i 5 Stelle sarà assorbito dal PD gli altri grillini entreranno nella Lega non pensavo di arrivare così in alto se processano me processano gli italiani e ora di mettere mano ai tribunali così Salvini nell'intervista a Pietro Senaldi a centro pagina perché non se ne va anche Bonafede la giustizia sarebbe salva dopo le dimissioni del ministro dell'istruzione Libero invoca anche quelle del ministro della giustizia questo per quanto riguarda la prima di Libero andiamo sul giornale l'apertura immigrati gli 007 terroristi dalla Libia all'allarme dei servizi l'intelligence in arrivo dall'Africa clandestini e fondamentalisti intanto ripartono gli sbarchi c'è Papa Francesco poi con l'articolo a firma di Stefano Zurlo il Papa e la giustizia la giusta crociata contro i cellulari a tavola Francesco all'attacco degli smartphone e poi ancora Tajani la verità taciuta su droga e marijuana polemica sul tweet dell'Azzurro a centro pagina i grillini ci fanno pagare i soldi per casaleggio il trucco dei parlamentari li ricevono come indenità li consegnano a casaleggio come donazione ma poi ne chiedono il rimborso alla Camera dei Deputati alla voce spese di mandato dal giornale andiamo sulla verità al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro arriva il ministro dei centri sociali chi è Gaetano Manfredi imputato per la ricostruzione dopo il sisma il prescelto da Giuseppe Conte per guidare l'università è un fan delle occupazioni è un'utile forma di aggregazione da non criminalizzare ha dichiarato peccato che quest'anno alla Sapienza ci sia scappato il morto e un suo ex collega lo accusa ha piazzato analfabeti scientifici a centro pagina la buongiorno anche in questo caso intervistata dal quotidiano come abbiamo visto sul Corriere ma non per le ragazze per il futuro di Salvini il blocco della nave Gregoretti condiviso da Conte ho le prove Giulia Buongiorno l'ex ministro abolire la prescrizione è una bomba atomica quando gli ho spiegato le conseguenze pure Di Maio era preoccupato a centro pagina poi l'Unione Europea che spreca in aiuti 3 miliardi all'anno finanziamo persino i bagni Niger i revisori dei conti bacchettano la commissione programmi costosi e senza impatto continuiamo la nostra carrellata ci spostiamo sulla prima pagina del foglio benvenuti robot basta balle l'automazione aiuta a proteggere le fabbriche stimola la produttività migliora i salari le nuove tecnologie non sono nemiche dell'occupazione ma sono già oggi formidabili alleati dei lavoratori un manifesto antideclinista per un 2020 con meno chiacchiere più crescita l'articolo è a firma di Marco Ventivogli che è il segretario generale della FIM Cisli il sindacato dei metalmeccanici ci spostiamo ora sul Sole 24 Ore a proposito di economia c'è la guida 2020 135 novità tra casa auto e famiglia il calendario di un anno con i bonus per tutti i neonati lo stop al super ticket la plastic free e la sugar tax monopattini come bici e appunto l'aiuto alla maturità sulla fronte flat tax all'addio per 1 su 4 stretta al forfè l'esclusione dal regime agevolato potrebbe riguardare da dopo domani circa 500.000 soggetti che ora dovranno emettere la fattura elettronica e applicare l'iva e poi ancora la legge spazzacorrotti che vacilla sotto il tiro dei ricorsi alla consulta chiudiamo la nostra carrellata con il fatto quotidiano Salvini balle a reti unificate in parcondicio continua il predominio del capo leghista in TG e talk show a novembre 10 ora lui 6 a Di Maio 5 a Conte 4 a Meloni 3 a Renzi 2 a Zingaretti 1 e mezza Berlusconi questi i dati sulle presenze dei politici in televisione la storia di Copertina poi parla dei segni zodiacali politici giornalisti giudici a coloroscopo del 2020 e poi ancora il Viminale migranti i dati veri fa meglio la Lamorgese sul fronte sbarchi rimpatri e ricollocamenti di taglio alto poi c'è l'intervista a Cacciari il filosofo sulle prospettive dell'anno nuovo nell'Emilia il PD vince se perde però salta il governo in Cina invece l'offensiva via la via della seta passa per la Turchia l'inchiesta di media part sugli affari del Dragone lasciamo i quotidiani nazionali e ci spostiamo sui quotidiani di casa nostra partendo dal messaggero Veneto che in apertura fa il punto su alcune delle novità in campo sanitario perché arrivano le multe a chi prenota visite e non si presenta oltre al pagamento del ticket infatti le aziende imporranno una sanzione l'assessore Riccardi spiega è un modo per ridurre le liste d'attesa di taglio alto un'anticipazione dello sport che andremo a trattare tra poco anche il messaggero promuove il pagellone sul 2019 in casa bianconera tutti i promossi e i bocciati tra la rosa dei giocatori bianconeri e poi ancora la cronaca con le notizie del territorio l'incidente stradale di ieri sera a Ragogna perde il controllo dell'automobile muore sul colpo sempre a Ragogna lutto per un anziano del paese che è caduto mentre passeggiava sulle rive del tagliamento ha battuto la testa ed è stato trovato senza vita si ritorna a parlare poi dei CPR i sindaci dei capoluoghi regionali favorevoli a realizzarle all'interno delle ex caserne delle rispettive città all'accoglienza diffusa sia i centri permanenti per i rimpatri dicono i sindaci di Udine Gorizia Pordenone e Trieste le altre notizie poi in prima il caso con l'appello dei figli rispetto al padre uccise la mamma ed ora in permesso abbiamo paura una storia che arriva da Feletto Umberto a Udine si continua a discutere invece sulle multe stangate i furbetti del parcheggio per quanto riguarda i divieti di sosta e c'è il bilancio sulle sanzioni in questo 2019 il capodanno che si avvicina due appuntamenti simbolo la marcia della pace dedicata stavolta alla memoria dei drammi e delle vittime con l'appuntamento a Zulio in carne alla camminata verso San Pietro in piazza Udine invece c'è il San Silvestro con musica e brindisi ma non solo in città appuntamenti in decine di piazze della regione andiamo all'interno delle pagine del messaggero per approfondire alcune notizie con l'apertura del dorso cittadino del quotidiano di Viale Palmanova stangate ai furbetti del divieto di sosta staccate multe per 2 milioni 700 mila euro il 2019 si chiude con numeri record se si escludono i 4 milioni del 2018 quando fecero la differenza le sanzioni della ZTL e vedete i dati c'è l'opposizione però che lamenta da giugno in via Mercato Vecchio soltanto 74 sanzioni Scalettaris consigliere del PD dice non credo che nel cuore di Udine soprattutto nella zona del cantiere si facciano molti controlli Ciani replica facciamo più controlli e non per far cassa non ne abbiamo bisogno dalle pagine di cronaca andiamo sulle notizie in provincia con il racconto dell'incidente di ieri sera avvenuto a Aragogna perde il controllo dell'auto muore sul colpo a perdere la vita Luciano Civilotti pensionato di 73 anni aveva appena acquistato una pizza da asporto e stava rientrando a casa queste le immagini dell'auto che si è capottata per lui vani i soccorsi dalle pagine del messaggero veneto andiamo sulle pagine del gazzettino l'apertura del quotidiano del nord est con la politica in primo piano Conte prima grana per la giustizia in oro prescrizione nell'agenda del premier gli alleati sono divisi sulla fronte sicurezza un piano per cambiare i decreti salvini di taglio alto Samira è morta ridatemi il corpo di mia figlia a Padova parla la madre della donna scomparsa il marito era geloso le tragedie sulle nevi che continuano in quattro travolti dalla valanga muore uno sci alpinista in Trentino e poi gli esteri con il macete attacca la casa del rabbino cinque feriti nell'assalto avvenuto a New York l'apertura del dorso del Friuli invece ci fa il punto sugli incidenti e gli infortuni sul lavoro un bilancio pesante i numeri contenuti nell'ultimo rapporto per il Friuli Venezia Giulia fotografano un quadro allarmato i sinistri stradali sono stati oltre 3.300 alta anche l'incidenza degli episodi in casa o sul lavoro e poi il capodanno in piazza tra eventi e sicurezza la mappa delle iniziative proposte e tanti gli appuntamenti in strada c'è la festa dello Stringer per i suoi 60 anni attraverso il ricordo della straordinaria figura di Bonaldo Stringer l'economista e primo governatore della Banca d'Italia che l'istituto festeggerà i suoi 60 anni di attività ancora le notizie richiamate in prima le opere sul fiume Terzo in sicurezza è tutto pronto a Fagagna invece un pozzo per l'oasi delle cicogne anche il gazzettino oggi lancia i promossi e i bocciati bianconeri tutti i voti ai calciatori di mister Gotti all'interno del quotidiano andiamo ad approfondire alcune notizie con i dati degli infortuni una strage silenziosa così viene definita il 30% dei sinistri domestici dipende da urti e colpi tante le scottature e le ustioni questi i dati riportati dal quotidiano dalle pagine del gazzettino andiamo sul messaggero di Pordenone ora le notizie relative alla destra tagliamento l'apertura del dorso cittadino si parla del quartiere isolato dei viaggiatori prigionieri due ascensori guasti le proteste in stazione questo l'episodio gli episodi che i vigili del fuoco che hanno chiuso la salita al sovrappasso di via San Vito quattro passeggeri hanno perso il treno notturno per Roma le reazioni sui social spunta un cammello in trappola queste le immagini con gli ascensori fuori uso e poi altri incidenti sulle piste anche in regione a Sappada Tarvisio ma anche a Piancavallo quattro i soccorsi con l'intervento anche dell'elissoccorso del 118 sempre dalle pagine di Pordenone si parla della manifestazione anti-mamma lui risponderà con un sit-in i fedeli musulmani donne e uomini hanno esibito numerosi cartelli contro Osni il portavoce del direttivo Baza qui non sono stati violati i diritti siamo tutti uniti si parla delle polemiche della tensione al centro islamico della Comina esplose nei giorni scorsi andiamo ora sulle pagine del piccolo con la prima pagina dell'edizione di Trieste la tragedia muore negli abissi dell'Angola Wolfgang Galletti tecnico triestino di 43 anni travolto sott'acqua da una grossa tubazione si trovava oltre 70 metri di profondità e poi ancora i nuovi CPR per i migranti Trieste dice sì all'ipotesi lanciata dall'assessore regionale la sicurezza Roberti e poi ancora l'art bonus che piace ai privati il teatro Verdi batte tutti lo sport con il basket triestino e l'Alliance che torna alla vittoria piega la fortitudo vittoria scaccia crisi dal piccolo di Trieste al piccolo nell'edizione di Gorizia si apre con il capodanno nella città esontina musica fino alle 4 deroghe alle limitazioni antischiamazzi ma fuochi di artificio silenziosi e stop ai botti nei fine settimana le concessioni invece sono fino a luna anche Gorizia è pronta a dire sì all'apertura dei nuovi CPR e queste poi le altre notizie che ripropongono la pagina di Trieste andiamo nel dettaglio nel dorso cittadino eccole qua le deroghe alle limitazioni antischiamazzi a capodanno sarà musica fino alle 4 nel fine settimana concessione sino a luna il sindaco Ziberno si faccia festa ma con equilibrio e cum grano salis spettacolo pirotecnico silenzioso nuovo provvedimento contro i botti fai da te le iniziative con la musica il piano di classificazione acustica che arriverà entro maggio questo l'annuncio del comune lasciamo i quotidiani nazionali e locali apriamo la pagina di sport con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali che vedono su tutti il mercato e le novità dalla Roma titola infatti così la gazzetta Million Dollar Roma mutuando il titolo del famoso film il club passa a Fritkin un affare record un bel segnale per il nostro calcio così lo commenta la gazzetta da un americano all'altro per 790 milioni di euro mai una società di Ava valutata così tanto alla scoperta dei progetti del Texano che sta comprando appunto dalla presidente attuale Pallotta e poi c'è Cristiano Ronaldo 2020 sempre più in alto una sera a Dubai con lui la Champions una Juve senza limiti avete presente il gol alla Samp è il top tra i miei colpi di testa ma posso fare ancora meglio ha raccontato il calciatore della Juventus ricevendo l'ennesimo premio e poi le altre notizie del mercato Haaland che dal Salisburgo passa al Borussia Dortmund lo voleva mezza Europa Cutrone invece è un passo dalla Fiorentina il basket la Virtus che domina Milano Teodosic e company scatenati a Bologna il derby d'Italia di taglio basso l'Inter con Conte e la festa per la ripresa della preparazione tornano Sanchez e Barella e intanto si aspetta Vidal dalla gazzetta al tutto sport la prima pagina del quotidiano il re del mondo Cristiano Ronaldo incoronato a Dubai come miglior giocatore del 2019 al Globe Soccer Awards premiati anche Pianici e il Golden Boy Joao Felix Haaland 125 milioni ecco perché la Juve lo ha mollato il Borussia Dortmund ha vinto l'asta operazione dai costi Pazzeschi 22 milioni al Salisburgo 80 Lordi al Bomber 8 al Padre 15 a Mino Raio al suo procuratore Sorridi Conte Riecco Sanchez Vidal si va avanti e poi Lansia Mazzardi destino in mano agli ex Granata Petracchi Nicola e Sinisa è fatta Roma 6 di Frickin al Texano per 780 milioni e altri sport Pozzo Vivo ritorna per il giro dopo l'incidente mentre c'è la Virtus Show per 9 mila Ciao Milano e Sonego io punto su Roma l'intervista al tennista 24 anni andiamo sulla Corriere dello Sport eccolo qua il futuro padrone della Roma Frickin libera la Roma accordo su 800 milioni il magnate Texano pronto a rilevare la maggioranza oggi l'annuncio cifra record per l'acquisto di un club italiano ma l'ultima parola la darà la due diligence legale poi la firma sul passaggio di proprietà dopo 8 anni senza trofei pallotte e soci via con 200 milioni di guadagno e lo stadio per ora fuori dall'intesa altre notizie ciao Juve Haaland Val Dortmund svanito il baby bomber Valverde stop a Vidal all'Inter Roma su Politano c'è la festa Gattuso c'è il Sidi Lobotka cambia il Napoli e poi ancora i risultati dell'ultima giornata e della Premier League di questo 2019 con il Liverpool che ottiene l'ennesima vittoria basta il gol di Manet colpo grosso del Chelsea che supera l'Arsenal in Serie B il Benevento senza rivali Trissi del Crotone il Perugia Capò vince il Pordenone 1-0 sulla Cremonese andiamo sui quotidiani di Casanostra proprio per raccontare le pagelle le abbiamo viste prima l'anteprima dei bianconeri e bianconeri che ottengono questi giudizi nel pagellone 2019 del messaggero Musso è stato il migliore in difesa da Econg e Samir troppi errori individuali per il portiere argentino in un anno c'è stato un anno da ricordare per lui il vero top player bianconero l'Arsenal ha avuto una involuzione Teravest condizionato dai problemi fisici questi sono i giudizi secondo il messaggero sul fronte difensivo supera la sufficienza Musso con un 7 e De Maio con un 6 poi Bram Noiting con un 6 e mezzo tutti gli altri sotto la sufficienza a centro campo invece Mandragora è il più continuo Fofanà sempre tra alti e bassi i giudizi del quotidiano 6 a Zegelar 6 e mezzo a Sema 6 e mezzo a Mandragora 6 ad Alessandro 6 a De Paul 5 e mezzo a Fofanà 6 a Iaialo 5 a Baracca 5 a Sandro e 5 a Wallace andiamo a vedere il reparto offensivo c'è Okacac che fa gol provvidenziali Lasagna invece con poca freddezza l'unico che supera la sufficienza è proprio Stefano Okacca 6 e mezzo per lui sul fronte allenatore invece si va dai 5 di Nicola al 6 di Tudor al 6 e mezzo di Luca Gotti Udinese che guarda nel frattempo al mercato e il messaggero fa una raccolta dei rumors delle ultime giornate da De Paul la Pussetto l'Udinese sul mercato balla il tango argentino l'Inter sarebbe pronta ad offrire 25 milioni più bonus per il Diez Naccio vuole giocare di più nel frattempo e sul fronte acquisti si guarda Iunes del Napoli accostato anche a Di Marco l'alternativa è ancora Zegelar Berami è stato avvistato a Udine è andato in prova al Genoa con l'arrivo di Nicola queste le ultime di mercato nel frattempo i bianconeri ve l'abbiamo raccontato si sono ritrovati per la preparazione dopo la sosta natalizia Don Rodrigo Musso e Wallace rientreranno in gruppo da oggi e si andrà avanti con la preparazione verso il prossimo impegno del 6 gennaio la trasferta a Lecce penultima giornata della girone di andata andiamo sulle pagine del Gazzettino sempre per quanto riguarda i colori bianconeri le pagelle del quotidiano Saracinesca Musso ecco il più bravo il 2019 è stato un anno pieno di alti e bassi per l'Udinese ma oltre alla nota negativa dei troppi cambi di allenatore c'è quella lieta di un portiere diventato nazionale argentino andiamo a vedere i voti dunque di Guido Gomirato Musso si becca un 7 e mezzo Kaka 6 e mezzo De Maio 6 e mezzo e poi De Paul anche per lui sufficienza scorrendo gli altri voti 6 a Pussetto così come a Poku Neutin Mandragora e poi ancora Struger 6 a Samir 5 e mezzo invece a Fofanapa siamo ai non sufficienti c'è anche Kong Lasagna Teravest Barak senza voto questi i giudizi e poi sul fronte Gazzettino le altre notizie riportate si parla di Totò di Natale che insieme alla solidarietà torna a Udine qui ho tanti amici e quasi casa mia è stato protagonista di un'iniziativa al ristorante Ancona 2 con gli amici Vincenzo Pisacano e Maria a Campora e Totò ha presenziato l'inaugurazione del presepe solidale dedicato al progetto autismo FWG e si è lasciato andare a nuove dichiarazioni di amore per la città e poi cacciati dalla panca bianconera tre mister a caccia di riscatto si fa il punto sulle novità nelle panchine di Serie A con Iachini che è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina e Davide Nicola invece ha preso in mano il Genoa andiamo a parlare del Pordenone ora che ieri ha chiuso in bellezza un'annata incredibile un Pordenone da urlo titola così il Gazzettino Ramani meno brillanti del solito ma gettano il cuore oltre l'ostacolo e piegano la Cremonese una vittoria voluta a tutti i costi dai tesserboi ora secondi e il vantaggio sulla terza è di tre punti andiamo ad analizzare nel dettaglio la partita il gol vittoria è quello di Patrick Ciorria un missile da Serie A Euro goal da fuori area del fantasista che lancia il Pordenone fa nera la Cremonese e rafforza la seconda posizione i Lombardi hanno cercato il pari ma sono andati a sbattere sulla saracinesca di Gregorio sul mastino camporese da lì è possibile passare appunto la classifica sorride e ramarri che però restano con i piedi per terra prima vanno fatti i punti salvezza allora ascoltiamo ora l'intervista a fine partita proprio al protagonista del gol vittoria Patrick Ciorria sono molto contento per il gol ma soprattutto per la prestazione perché ci serviva soprattutto dopo Salerno siamo stati bravi ad archiviare subito quella partita e ripartire ancora più forti contro la Cremonese sapevamo di soffrire perché è una squadra forte con gente veramente di qualità soprattutto lì davanti come diceva prima Michele è la forza di questo gruppo che gode proprio nel soffrire è sempre unito e quindi mi ha fatto una grande prestazione andando indietro e ricordando il primo anno tu a Pordenone ti saresti mai immaginato di essere ancora qua dopo due anni che è stato un anno positivo all'inizio dal punto di vista realizzativo poi si è chiuso non eri anche infortunato l'ultima parte del primo anno di Cino adesso invece ti ritrovi al secondo posto in classifica ancora qua in Serie B come può cambiare la vita calcistica di un giocatore però appunto sono sceso dalla Serie B dallo Spezia appunto per venire qua in una società ambiziosa e il Pordenone mi ha preso mi ha fatto subito tranne di contratto perché ci credeva e ci puntava in me le cose sono andate bene appunto con il lavoro e il sacrificio abbiamo ottenuto i risultati ed è bello essere qui e chiudere l'anno secondo in classifica ora dobbiamo ricaricare le pile e poi dal 7 mattina si riparte ancora più cattivi e determinati a lavorare il giorno di ritorno come sempre si dice più duro che in realtà è poi anche così no Patrick? certo le squadre ormai hanno iniziato a conoscerci quindi non siamo più diciamo la sorpresa però noi dobbiamo continuare partita dopo partita cercare di fare sempre i tre punti come prima cosa rimane la salvezza come primo obiettivo e poi si vedrà dove vai in vacanza? in vacanza vado a casa con la famiglia mi guardo un po' la famiglia che ho bisogno di loro che da un po' che non li vedo grazie grazie a te appunto ha fatto bene Alberto a riepilogare un po' tutto il tuo percorso però in una stagione in cui arrivano tanti attaccanti in estate chiudere il giro d'andata dal punto di vista personale con 18 presenze praticamente solo una panchina è sintomo di la grande fiducia che è il mister ma anche di un lavoro che tu hai fatto incredibile certamente il mister mi sta dando tanta fiducia cerco sempre di ricambiarla in campo dando il massimo davanti abbiamo veramente attaccanti di qualità come Monachello Strizzo Le Candellone il mister bene o male ci ha fatto sempre giocare tutti quindi ha dato fiducia a tutti ed è proprio questa la nostra forza che si gioca uno l'altro fa sempre bene queste dunque le parole di Patrick Ciurri a Porrenone che ritornerà in campo il 17 gennaio in casa del Frosinone ci fermiamo qui spazio a tutti gli altri aggiornamenti poi ci ritroviamo in diretta dalle 8 più tardi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.